Buonasera, sono Maria Rosa Bersaletti dell'Istituto Teccio Samy Benchelin, il centro buddista di Belvedere Langhe. Iniziamo con questo video una prima raccolta di videi che vogliono essere di ispirazione a quello che il Buddha cosa può insegnarci quotidianamente e quali sono le cose che possono anche nelle cose pratiche avvicinarci alla spiritualità e all'interiorità. Oggi l'argomento che tratteremo è come utilizzare i colori a livello di energia e a livello di pratica spirituale. I colori è un discorso molto molto profondo e con i colori si pratica il sentiero spirituale, si pratica il sentiero yogico e si fa anche l'autocura, si usano i colori per visualizzare, per esempio il fatto di trovare un ospedale tutto bianco non può essere terapeutico di sicuro, quello che può aiutare è avere dei colori. Per esempio il colore giallo aiuta il fegato e può anche aiutare la circolazione, il colore rosso serve a tonificare, a dare energia, il colore blu per disperdere e quindi ogni colore ha la sua capacità di creare più energia oppure anche distribuirlo o disperderla secondo anche le esigenze. Quindi si possono usare anche a livello pratico come autoterapia. Noi conosciamo le persone che praticano il Dharma e che seguono il sentiero nazio e conoscono molto bene l'autoguarigione tantrica che aiuta a equilibrare le nostre energie interiori. I cinque colori bianco, rosso, blu, giallo e verde sono i cinque colori legati alle nostre principali energie di saggezza. Quindi andando in molto profondità troviamo queste qualità da risvegliare e scoprire dentro di noi. Ma noi adesso ci facciamo una bella passeggiata in mezzo ai colori. I colori sono la creatività, per esempio possiamo vedere questo colore rosso, come vedete un geranio, ma è un colore rosso che nutre e che dà positività. Se noi mettiamo del rosso intorno a noi e siamo un po' depressi, un po' stanchi o dobbiamo riprenderci da una forma di influenza o malattia, avere colori vivazizzanti come rosso, giallo, blu intenso può darci molta energia. Rosso per dare più energia, blu per armonizzare e distogliere le tensioni, anche le infiammazioni. Intanto noi vediamo anche il colore bianco che è distensivo, come questi fiori. Come vedete nel centro, questi sono i fiori del centro di Belvedere Langhe, sono colori molto rilassanti, danno pace. Possiamo usare il bianco per creare armonia, creare pace interiore, rilassarci, quindi anche quando noi abbiamo una stanza in cui abbiamo il bianco, lo utilizziamo per purificare, eliminare le tensioni e gli stress emotivi. Il verde invece crea una situazione di energia, di calma, la gelosia, fondamentalmente un'energia di purificazione legata all'invidia, alla gelosia. Quindi usando il verde noi possiamo anche pacificare queste energie di intolleranza che spesso si hanno quando si ha con delle persone che non ci piacciono o comunque abbiamo dei conflitti legati all'invidia. e quindi sappiamo che è un potere di rilassare per quello che sono i disturbi legati anche ai conflitti che possiamo avere con le persone. Quindi noi visualizziamo verde, un verde intenso. Quindi avere una casa con molto verde aiuta a rilassare queste emozioni negative. Chiaramente bisogna sempre anche un po' lavorare con noi in modo tale che possiamo anche benare lo spazio del cielo alla meditazione di giugnata. Se siamo dei praticanti della meditazione già iniziamo a allenare anche con gli elementi, con i colori che troviamo in natura, le nostre emozioni creando positività e creando armonia con queste emozioni. Quindi noi quotidianamente possiamo benissimo trovare questi equilibri con i colori che incontriamo quotidianamente nel nostro percorso della vita. Adesso vedremo ancora un colore giallo che è qui nel giardino del centro e aiuta a creare armonia con queste emozioni che creano la base della prosperità. Se noi eliminiamo l'avarizia e la causa dell'orgoglio, riusciamo a avere poi maggiore benessere per noi e per gli altri. Adesso io vi ho fatto vedere i colori che ho avuto intorno facendo una passeggiata con voi. Però questo lo possiamo benissimo fare anche con le cose che abbiamo in casa. Tipo, non so, una parete colorata come questa. Prima nel centro abbiamo fatto le pareti gialle con dei colori molto accesi perché comunque aiutano a creare la sintonia con l'energia del colore. Sappiamo tutti noi che praticare la meditazione e il colore, almeno non solo per gli artisti ma proprio per le persone, può dare molto equilibrio. Quindi adesso vi consiglio di fare insieme a me una piccola meditazione sulla natura dei colori. Ci sediamo comodamente. Pensiamo alla natura del colore bianco. Lo visualizziamo. Cerchiamo di ricordare i colori. Poi se non riusciamo subito, col tempo, pian piano allenandoci, ci abituiamo a essere come i grandi artisti che visualizzano tutto prima di mettere sulla tela qualche opera d'arte. Quindi adesso iniziamo a visualizzare il nostro colore bianco con la natura fresca della purificazione di variociana. Molto fluido, questa energia luminosa e bianca che elimina tutte le nostre interferenze mentali, tutte le nostre preoccupazioni. Poi visualizziamo il colore rosso, Amitava. Il colore rosso che è rivitalizzante, l'energia. Visualizziamo questo colore molto brillante che elimina le cause dell'attaccamento e che ci nutre eliminando le cause delle nostre malattie. Poi visualizziamo il colore blu, intenso, l'equanimità. Tutto è calmo come l'oceano. Vediamo questo blu che fa vedere tutti gli esseri senzienti, i nostri amici, li portiamo al nostro cuore. Poi visualizziamo il colore giallo, dell'abbondanza, prosperità. Un giallo oro intenso, luminoso, con un prezioso gioiello che si diffonde tutto nello spazio e che ci nutre, dandoci abbondanza, prosperità, l'elemento anche della terra che è prospera, fiorente e illimitata. Visualizziamo inoltre il colore verde intenso, elimina la gelosia, l'invidia. Noi siamo completamente in amicizia con tutti gli esseri senzienti, in armonia con la natura. Il verde ci rigenera, abbiamo un'azione fresca e senza limiti, senza paura. Bene, con questo vi invito a continuare a colorare la vostra casa, le vostre, anche voi stessi, nel senso che vi vestite con colori adatti a come vi sentite, in modo che potete autocurarvi vedendo il colore. Se noi mettiamo degli vestiti colorati di seta, o comunque con dei materiali naturali, questo può anche trasmettere il colore come cromoterapia proprio. Se noi abbiamo problemi di felice, vestiamo più di giallo, ecco, vedendo anche un po' la nostra situazione interna, possiamo togliere o mettere più energie secondo il nostro bisogno. E quindi in base anche a come ci vestiamo, possiamo anche curare sia l'aspetto fisico che quello psicologico e creare un'armonia più dinamica con la natura e con gli eventi che potete affrontare durante la vita. Questi sono consigli proprio non dovuti soltanto a me, ma proprio sono tecniche di vita usate da sempre. In più in profondo c'è anche la saggezza della nostra vera natura, che è anche un colore. E quindi questi colori hanno un'espansione sia dentro il nostro corpo come effetto terapeutico e riequilibrante dal punto di vista della meditazione, sia anche nella vita, perché la natura è fatta di colori molto belli, come avete visto, girando così soltanto noi abbiamo il centro, curiamo molto il giardino e l'orto e quindi è facile avere un contatto diretto con questi colori, ma creiamo anche le condizioni in modo tale di poterne nutrire anche solo la visione e avere il contatto visivo. Tutto questo, chiaramente se siamo in città è un po' più difficile, però possiamo ugualmente trovare delle strategie e creare più colore che possiamo in modo tale che riusciamo ad avere la saggezza dell'autocura. Vi ringrazio della vostra attenzione e vi aspetto il prossimo martedì che faremo un'altra puntata dell'autocura con un amico per Buddha e parleremo però del suono questa volta. Ogni puntata ci sarà un argomento che verrà trattato, oggi abbiamo parlato dei colori, il prossimo martedì parleremo dell'autocura e l'utilizzo del suono come amico, come è un amico il nostro Buddha. Buona festa perché oggi è festa dell'Unità d'Italia e tanti auguri a tutti voi per la vostra meditazione dinamica. Ciao da Maria Rosa Grazie